C'è una storia dolcissima su Raiuli. Sono rimasta incinta nell'ultima notte di vita di suo nipote. È scritta dal dolore. Non ho intenzione di farmi ricattare. Ma anche dal riscatto. Lei liquida un bambino che è suo nipote. Io non voglio i suoi soldi. Quelli vanno solo al bambino. Quanta forza ha una mamma. E per lui pretendo tutti i diritti. Quanta forza può dare l'amore. Io non ho nessuno, ma adesso avrò lui. Voglio liberarmi di quella ragazza. Sicuro Alessio, la vita sa sorprenderci, sai? Per una notte d'amore. Questa sera alle 21.20, Rai 1.